ciao a tutti ragazzi di un posto d'archivolo oggi parleremo di una cosa molto interessante ovvero cosa ci sarà nel dlc di dominion ho pensato siccome manca davvero poco al film se non sbaglio sono una sedicina di giorni più o meno si pensavo appunto di registrare questo video nel quale esprimo alcuni dei miei pensieri su cosa potrebbe aggiungere questo dlc che poi non si sa se sarà a pagamento o meno dunque ecco qui bel simbolo di dominion mentre ragazzi direi di vedere un po cosa potrebbero aggiungere in questo dlc partendo da kin e varianti abbiamo il giganotosaurus ovviamente quello di dominion il caro joker dei dinosauri che questo penso avrà oltre la skin diversa magari ne avrà due può essere avrà anche qualche verso diverso magari non penso che animazioni particolari magari si dipende poi se nel film qualcosa di strano abbiamo il parasaurolophus o il parasaurolophus che appunto quello di dominion è diverso di quello che avevamo nel gioco di base e appunto anche questo penso sia semplicemente una skin invece a differenza del giga che magari potrebbe essere una variante e non so se ce ne sarà solo una tipologia di parasaurolophus di dominion oppure magari due abbiamo il diloposaurus anche questo ovviamente sarà semplicemente una skin siccome alla fine dovrebbe comportarsi come un dilo normale pure il verso dovrebbe essere lo stesso poi dipende sempre da film e abbiamo quello un poco meno probabile ovvero l'allosaurus di battle at big rock abbiamo visto che comunque il modello dell'allosauro di dominion sarà uguale a quello di battle at big rock in pratica quindi magari sarà semplicemente pure questo una skin forse forse potrebbe essere una variante perché non so se il verso dell'allo è diverso in realtà da quello di battle at big rock poi abbiamo il carnotaurus che sarebbe quello che io chiamo demon ovvero appunto il carno russo di corno spezzato questo pure penso sarà una semplice skin niente di troppo particolare passiamo altri che pure sono abbastanza particolari ovvero l'iguano don di dominion che abbiamo visto anche nel prologo che è diverso di quello di giurassic world evolution 2 questo magari potrebbe essere pure una variante siccome è proprio un modello diverso non è solo una skin quindi questo sarà sicuramente una variante stessa cosa per il drenotus che pure quello di dominion è molto diverso da quello di giurassic world evolution e appunto ha un collo molto più diverso più verso l'orizzontale piuttosto che in verticale come quello del gioco e infine abbiamo il barionics con la protesi questo pure penso sarà una semplice skin e potrebbe essere quello più improbabile che aggiungano siccome alla fine è solo un bari con il braccio robotico però ricordo bene ragazzi di tenere voi nei commenti se non sbaglio il bari con la protesi era un cucciolo almeno così vi pare poi vabbè vedremo nel film e confermeremo andiamo avanti con nuove specie ragazzi abbiamo il terizinosaurus al primo posto qui anche se la classifica non è per importanza e appunto il teri di dominion sappiamo che è molto particolare è un po' strano perché è un pochettino più schiacciato però c'è un colore particolare quindi aspettatevi o il colore base come quello del film o proprio una skin del film e poi ovviamente varie skin abbiamo gli atroci raptor ragazzi quindi questi saranno molto simili a raptor non penso che cambierà più di tanto le animazioni mentre per esempio con il teri di zinosaur penso che faranno una cosa di molto particolare anche perché adesso mi sono ricordato che il teri a quanto pare mangia pure il pesce almeno così dice l'app l'app poi il sito di no tracker quindi chissà se mangerà anche il pesce sarebbe interessante aggiungere un dinosauro praticamente un nivoro così gli atroci raptor invece mi sa che metteranno le quattro skin della squadra e magari poi tutto il resto delle varie skin che possiamo fare noi tranquillamente quindi quattro skin del film e il resto skin normali poi abbiamo il pyro raptor e questo sarà molto interessante siccome avrà delle belle belle piume infatti chi sa le skin come saranno che per questo mi aspetto o che la skin base sia come quella del film oppure che faccio proprio una skin a parte poi abbiamo i micro ceratus ragazzi questi piccoletti all'inizio a me non piacevano perché avevo visto l'animatronico che era un po' strano a mio parere perché non era completo poi alla fine ho visto hanno fatto vedere un'altra piccola parte dei micro ceratus e non sono male sono abbastanza carini sinceramente questi mi aspetto non una skin in particolare del film perché non penso che avranno un ruolo troppo importante però ci saranno tante skin particolari mi aspetto colori interessanti poi abbiamo non solo che è molto molto particolare il moros che non so se lo metteranno penso di sì perché è pure presente nella lista della biosine anche questo ha le piume quindi sarà molto interessante vedere come verranno fatte le piume su Jurassic World Evolution 2 e immagino varie skin colorate poi abbiamo l'oviraptor che è quello tra i dinosauri che ho più dubbi che mettano siccome si vede solo e unicamente nel prologo che noi non vedremo più nel film perché vi ricordo che a quanto pare l'hanno cancellato quindi bisogna vedere se metteranno l'oviraptor sarebbe interessante perché comunque l'oviraptor è particolare come dinosauro passiamo a un'altra specie ovvero il Quetzal che abbiamo visto in Dominion è davvero fantastico a mio parere sarà enorme infatti mi chiedo come faranno con l'evoliere secondo me lo fanno più piccolino il Quetzal oppure mettono che ha bisogno di tante voliere e magari quando esce dall'incubatrice che comunque è abbastanza piccolina è l'incubatrice dei rettili volanti sarà un poco strettino cose del genere passiamo a un esemplare molto particolare ovvero il Dimetrodon che a quanto pare in Dominion adora l'acqua quindi come il Pyroraptor magari avrà bisogno di tanta acqua nel suo bioma anche perché vi ricordo che il Pyro a quanto pare sa nuotare però non penso che metteranno un'animazione di nuoto per il Pyro quindi non ve l'aspettate comunque il Dimetrodon pure sarà molto interessante non so se avrà una skin del film magari sì e poi risicurerà varie skin che spero che facciano bella colorata la vela dietro così appunto che la rendono bella bella simpatica abbiamo il Listrosaurus e questo pure è un po' improbabile cioè penso lo metteranno perché comunque ci sarà una scena con il Listrosauro non vi faccio spoiler però più o meno ho già visto che ci sarà una scena in cui è presente sarebbe interessante perché è molto particolare mi aspetto animazioni nuove per entrambi per il Dimetrodon mi aspetto per esempio che non abbia bisogno di prete che Dimetrodon è abbastanza tuzzo non so se riesce a inseguire una capra magari sì comunque immagino che abbia bisogno di carne e a quanto pare stesso sul sito di NoTracker dicono che mangia anche pesce quindi magari pure questo sarà un po' un ibrido strano delle due cose spero di sì perché sarebbe figo vedere che mangia sia carne che pesce andiamo avanti con nuova mappa Teoria del Caos appunto questa mappa in questione sarà quella sulle Dolomiti perché il centro creativo Biosyn a quanto pare è nelle Dolomiti quindi immagino appunto la mappa nuova della Teoria del Caos sarà incentrata in questa zona delle Dolomiti che poi abbiamo sempre voluto la mappa in Italia visto ce l'ha accontentato in pratica comunque immagino che la Teoria del Caos di Dominion sarà molto simile a quella del Santuario di Jurassic World Evolution 1 quindi magari la cosa particolare è che noi a posto della Biosyn che copriva i loro esperimenti con il fatto che avevano la loro riserva per i dinosauri quindi facevano finta di essere buoni a quanto pare così sembra nel film poi vedremo però penso di così comunque a posto di fare finta di essere buoni nella Teoria del Caos magari sarà davvero un bel santuario dove avremo a che fare con vari dinosauri da cui il giga di sicuro magari il teri bisogna vedere un po' comunque sarà molto interessante passiamo a una cosa che non so se metteranno però spero di sì ovvero un continuo per la campagna perché vi ricordo che la campagna che abbiamo in questo momento per Jurassic World Evolution 2 sembra leggermente incompleta quindi qua potrebbero mettere due mappe negli Stati Uniti ragazzi sarebbe molto interessante perché alla fine la storia lì si basa un tutorial sui rettili marini siccome abbiamo avuto il tutorial nella campagna per i dinosauri per i rettili volanti ma non per i rettili malini e mi sembra un po' strano quindi anche per questo penso che magari la campagna verrà continuata questo magari non sarà proprio parte ovviamente del DLC di Dominion ma magari verrà fatto a parte perché poi non so ragazzi se il DLC di Dominion sarà gratis o meno io non saprei non saprei proprio ragazzi perché effettivamente a differenza di quello che fu il DLC tra molte parentesi di Fallen Kingdom a livello temporale dell'uscita del gioco è passato molto tempo quindi farlo a pagamento avrebbe anche senso a mio parere comunque un'altra cosa appunto ci sarà una vera e propria conclusione della campagna in cui appunto magari arriveremo a un punto di stallo una cosa del genere che comunque metteranno un punto alla storia della campagna o cose del genere ecco qui la bella mappa degli Stati Uniti andiamo avanti una cosa che spero mettano sono nuove decorazioni questa come parte di una specie di update che di solito fanno quando escono appunto i DLC l'ho detto in modo strano escono quindi spero che mettono finalmente le panchine che tanto speravamo di vedere nel scorso aggiornamento ma qua dove non ci stavano pure tronchi caduti non sarebbe male magari qualche auto distrutta oppure non distrutta che magari si può mettere nella zona che volete dedicare ai centri operativi e cose del genere e poi una cosa molto interessante a tema Dominion a quanto pare la cassa a tema Sorna che a quanto pare in questa immagine che appunto è su set di Dominion risulta esserci come vedete di essere scritto Ingen Site B quindi non sarebbe male da mettere un'altra cosa molto simpatica che però mi sembra un po' improbabile che mettano magari potrebbero mettere dei cartelli simili a questi qui quindi che ne so cartello che tu piazzi davanti al recinto con scritto non usate il flash non fate i selfie non calcate il triceratops come sta scritto qua sarebbe comunque molto simpatico e carino se avete qualche altra idea come decorazioni potremmo sapere nei commenti sono sempre molto curioso di vedere quali sono le vostre idee passiamo avanti abbiamo una cosa molto particolare che sarebbe quello che vorrei vedere io nel gioco magari appunto con meccaniche nuove e varie quindi nuove mangiatoie siccome nei file abbiamo visto che risultano esserci delle mangiatoie particolari sia per i rettili volanti a quanto pare che per tipo conichi polli anche se sono strani quei polli sono blu varie cose del genere non sarebbe male perché comunque darebbe una buona varietà al gioco anche un miglioramento dell'AI dei visitatori non sarebbe male anche perché nonostante abbiano messo i vari requisiti e le varie tipologie dei visitatori comunque restano dei fantasmi per il parco sarebbe molto interessante un miglioramento da questo punto di vista una cosa che spero mettano se non mettono in questo DLC magari in un prossimo sarebbe un bel revamp delle lagune ragazzi ne hanno bisogno perché sono davvero inutili metti lì e basta metti il mosasauro metti il plesiosauro metti l'iziosauro del cacchio e basta non puoi farci niente di più sarebbe bello magari che prima che tu le piazzi puoi scegliere una specie di fondale marino e cose del genere questo più o meno già ne parlai in un altro video mi pare e sarebbe una figata in realtà non chiedo tanto ma spero davvero che pensino a fare un bel revamp delle lagune un'altra cosa molto interessante che prenderemo spunto da Jurassic Park Operation Genesis appunto c'è la bella immagine un bel sistema di sporcizia del parco quindi questa cosa potrebbe essere aggiunto magari anche a miglioramento dell'Aide visitatori quindi appunto con questo sistema avremo bisogno di una stazione di pulizia dove noi possiamo assumere dei tizietti che faranno poi le pulizie per il parco non mi sembra una cosa troppo impossibile siccome comunque è presente nei vari titoli della Frontier tra cui appunto anche se non sbaglio Planet Coaster Planet Zoo quindi comunque è una cosa che volendo penso si possa riproporre su Jurassic World Evolution 2 poi non so perché non sono uno sviluppatore ma sarebbe molto interessante a mio parere è un'altra cosa che ci spero tantissimo ma penso non ci saranno ovvero nuove attrazioni qui c'è un'immagine di un Roller Coaster questa immagine l'è stata trovata appunto questo file dentro una cartella che era presente nei file gioco da quel che so potrebbe anche essere semplicemente un assets che è stato riutilizzato dalla Frontier magari però a quanto pare sono molto mischiate le cose a meno nei file della Frontier sono un poco disorganizzati magari comunque non sarebbe male non magari avere un Roller Coaster sarebbe figo e avrebbe anche abbastanza senso perché comunque se ci pensate c'è il Bone Shaker di Jurassic Park The Game che è una figata è un bellissimo Roller Coaster però a me piacerebbe tantissimo sempre ripensando a Jurassic Park Operation Genesis quella cupola che tu potevi piazzare dentro il recinto che era collegato da una specie di sentiero sottoterra e i visitatori potevano andare lì e avere una bella vista a 360 gradi 165 gradi del recinto e vedere i vari dinosauri senza disturbarli troppo sarebbe una figata magari anche qualche questa è una cosa assurda che potrebbero fare ma non penso faranno dei bellissimi tunnel sottomarini che possono usare per vedere i rettili marini pure questo sarebbe un ottimo rivampo per le lagune gli darebbe una bella utilità e una bella caratteristica particolare anche perché appunto per esempio a differenza delle voliere dove ci può passare il tour nelle lagune non può passare niente a parte il sottomarino piccolino che usano per controllare i rettili marini bene gente spero che vi sia piaciuto fatemi sapere nei commenti cosa sperate e cosa vorreste che aggiungessero in questo dlc che sarà imminente in pratica non vi so dire la data ma penso che verso fine mese inizio giugno avremo un bel trailer in cui magari ci faranno vedere le varie cose spero di venne azzeccata qualcuna io di solito a quanto pare riesco un po' a prevedere queste cose l'avete visto con le specie che feci tempo fa alcune di loro sono davvero arrivate in Jurassic World Evolution 2 quindi speriamo magari in qualcosa come il sistema di sporcizia pure mi accontenterei o qualche decorazione particolare non sarebbe male quindi ragazzi che dire io vi saluto è stato un piacere ci vediamo alla prossima ciao ciao